Per acquistare crediti, IGVOLT è la soluzione, veloci, sicuri e rimborso gratuito. Link in descrizione col mio codice coupon. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un ennesimo Scoot Builder, la prima ibrida di FIFA 16 che vi porto quest'anno. Mi scuso se sto portando pochi video ultimamente, ma sono in un periodo un po' del cavolo, quindi ho poco tempo per giocare a questo gioco e comunque ultimamente mi sta piacendo solo portare Scoot Builder perché non ho idea che altri tipi di video fare o comunque presto comincerò anche Bestie Nascoste, ma ci vorrà un po' di tempo, perciò in questo momento vi porterò questo tipo di video. Comunque, il libro di oggi è un 4-3-1-2 composta da tipo 4 campionati, non mi ricordo benissimo, ed è una buona squadra, una squadra che mi è piaciuta con Perisic If che andremo a vedere tra poco. Ho usato il 4-3-1-2, ne parliamo dopo il perché per quando arrivo appunto a Perisic. Comunque in porta ho utilizzato Ruffier che mi piace abbastanza, direi molto forte come portiere, non costa poco e comunque ha delle statistiche veramente altissime, soprattutto 86 di riflessi, un'ottima velocità, un'ottimo piazzamento. Comunque veramente un ottimo portiere anche perché è alto, 1-88, quindi è perfetto. Praticamente in tutte le statistiche è perfetto questo portiere, difficilmente si può trovare di meglio. Poi, come terzino destro, ho utilizzato Urie che ho voluto provare perché ha delle ottime statistiche, infatti è un ottimo terzino, veramente forte, veloce, fisicamente anche ottimo, alto, alto di work e quindi attacca e difende sempre, sempre in movimento come giocatore. Devo dire che ha fatto veramente la differenza in difesa. Poi, come difensore centrale ho utilizzato Yang Ambiwa sulla destra che mi è piaciuto abbastanza, la difesa sostanzialmente mi è piaciuta, è veloce, ha una discreta difesa, anche se magari si potrebbe optare per qualcosa di migliore o per una chemistry style. A Yang Ambiwa, ottimo fisico, buona altezza, normale normale di work, è un buon difensore. Del resto, il suo convegno di reparto è Jones, Phil Jones del Manchester United, mi è piaciuto per quanto riguarda la fase difensiva perché è veramente forte difensivamente, forse di testa non è il massimo per, diciamo, abbastanza alto, non so quanto abbia di elevazione o colpo di testa, però alcune volte si fa sorprendere, ecco, sui colpi di testa, proprio il resto è un ottimo difensore, anche se non ha una velocità altissima, non si sente e recupera anche gli attaccanti veloci. E per completare la difesa, terzioni di sinistra, che è Duke Shaw, che fa tripla intesa con Jones, mi è piaciuto, devo dire, fa sempre delle belle scavallate, il problema forse è un po' il suo passaggio che non è dei migliori e anche il fatto di avere solo due stelle e piede debole, quindi di destro fa veramente dei brutti passaggi, soprattutto quando si è un po' in difficoltà con la difesa. Se gli capita il pallone sul destro, Shaw, lì si va un po' nei casini perché sbaglia praticamente sempre il passaggio, però comunque sia quando dovete fare i contropiedi o comunque deve fare il dribbling, eccetera, mi è parso un ottimo terzino. Andiamo con il centrocampo, con il centrocampista centrale di destra, che è Verratti, ho voluto fare questa spesa, sostenere la spesa Verratti, che sono comunque 15.000 crediti, perché volevo provarlo inizialmente, perché ha delle ottime statistiche, purtroppo di velocità e di tiro non il massimo, però ha delle ottime statistiche in ogni caso, ha anche 4 stelle abilità, 4 stelle piede debole, infatti mi ha fatto un gol e un assist in 3 partite, non contate la quarta perché non so se avete visto sulla mia pagina Facebook, ho messo un video dove in 10 secondi l'avversario quitta, ma proprio al decimo secondo della partita si può dire, e quindi non si può contare una partita del genere. Quindi 3 partite, un gol e un assist, direi che i centrocampisti fanno veramente la differenza in questo gioco, quindi bisogna sempre cercare di prendere giocatori comunque con un buon tiro, anche se Verratti non ha tutto sto grande tiro, però mi ha fatto un gol di long shot, quindi vuol dire che è abbastanza buono. Poi in mezzo troviamo il crack, cioè Schneiderlin, il centrocampista del Manchester United, che è veramente fortissimo, mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto 2 gol in 3 partite, l'ho pagato circa 9000 crediti, dovrebbe esserci anche il cambio di ruolo dentro. Mi è piaciuto molto perché segna, innanzitutto è fisico, quindi recupera un sacco di palloni, perché è anche buono da schermo davanti alla difesa, workhead da difensore aggiunto, quindi davanti alla difesa è perfetto, è anche un ottimo passaggio. Mi è piaciuto molto questo giocatore, anche perché fa diversi inserimenti, non si direbbe dal suo workhead attacco normale, e comunque è sempre in zona goal, o comunque è sempre in posizione perfetta. Per completare il centrocampo ho utilizzato Sisoko del Newcastle, lo volevo provare perché volevo questo tipo di giocatore come terzo centrocampista, che fosse veloce, che abbia un buon tiro, un buon dribbling, un buon passaggio, che comunque sia anche buono in difesa, ma soprattutto un ottimo fisico. L'ho trovato in Sisoko che mi è piaciuto molto, non mi sono piaciute le due stelle piede debole, e sommate alle due stelle piede debole di Luke Shaw, se per sbaglio vi arriva la palla sul destro, sulla fascia di sinistra, è un casino, perché fanno veramente due dei passaggi veramente orrendi di destro, però se vi tenete la palla sul sinistro, questo giocatore è perfetto, perché è fortissimo, è fisico, è veloce, è alto, eccetera, eccetera. Davvero un ottimo giocatore. Poi andiamo con il punto chiave della squadra, cioè il trequartista, che è, come avevo anticipato, Perisic. Perisic non mi è piaciuto tantissimo, zan zan zan, perché innanzitutto costa tanto, l'ho pagato sui 70.000 crediti, e poi appena l'ho preso il prezzo è crollato, tipo a 10.000 in meno, qualcosa del genere. Perché non mi è piaciuto? Non lo so, non mi è sembrato velocissimo, parlo di velocità di esecuzione, di riflessi, di agilità, non è il massimo, non ha neanche un bel tiro per quanto ho provato io, cioè mi ha sbagliato dei gol veramente facilissimi davanti al portiere, e delle volte sbaglia anche dei passaggi clamorosi. Non so se è un problema di ruolo, o di, che ne so, di compagni che ha intorno, eccetera, perché vedendo altri video, vedendo altre squadre, di gente che lo osannava, utilizzato come seconda punta, anzi come falso 9, nel 4-3-3 col falso 9, sembrava veramente fortissimo, quindi è da provare in quella posizione, o è da provare in un modulo che sfrutti l'AT, utilizzandolo ovviamente AT, seconda punta. Quindi adesso non vi posso dare una grande recensione di questo giocatore, però comunque un gol e un assist in tre partite me li ha fatti, anche se mi aspettavo molto molto di più. Poi andiamo con l'attacco, troviamo la bestia sulla destra, cioè Pepito Rossi, ragazzi provate Pepito Rossi, perché è fortissimo, fa la differenza, 3 gol in tre partite e un assist, ottimo, ottimo, ottimo per Pepito, che è bassino, ma non lo prendono mai, sia perché è abbastanza veloce, sia perché ha un'ottima agilità, o comunque un ottimo controllo palla, sia perché è anche un ottimo tiro, può finalizzare con grande, grande facilità, inoltre anche un buon passaggio, quindi può dialogare molto bene col suo compagno di reparto. Compagno di reparto che mi ha deluso tantissimo, cioè Palassio, provate magari Jovetic, che ne so, un giocatore che comunque faccia intesa con Perisic, perché Palassio non mi è affatto piaciuto, mi ha fatto un solo assist in tre partite, mai pericoloso, sempre un po' goffo, un po' lento, mai velocissimo, è strano perché l'anno scorso era un giocatore veramente formidabile, quest'anno mi ha deluso tantissimo, ma probabilmente è anche qui un discorso di modulo, dovrebbe magari giocare, che ne so, unica punta, o che ne so, fatemi sapere voi se l'avete provato in altri moduli, in altre occasioni, e come vi ha giocato Palassio, perché a me non mi ha fatto impazzire, devo dire la verità, mi aspettavo molto di più da Palassio, ma mi aspettavo molto di più da Perisic. Comunque raga, questa è la squadra, spero vi piaccia, come sempre inviterò a lasciare un bel like, 300 mi piace uscirà un nuovo video, fatemi sapere nei commenti se volete altre squadre con qualche giocatore IF, che ve le porterò, ovviamente che non siano troppo costosi, perché c'è sempre un problema di budget all'inizio, di FIFA, iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione, adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video, bella! Ciao! Grazie a tutti.